Buonasera, buonasera, siamo ritornati, vi dico di nuovo buonasera perché... Ari buonasera, sta tornando il... no, non sta tornando, ma anche se poi in realtà siamo in un non luogo e in un non tempo, non posso neanche dire se è sera, non sta tornando, siamo in un luogo non nominabile, bello ritornato, bello ritornato, si può dire, Siamo coerenti con le stesse, siamo in un luogo non nominabile, in un tempo che non c'è, in un tempo futuro, il direttore ci sta lasciando, allunghiamo il nostro caro Angelo Dorio che ci ha dato vita alla nostra radio e presentiamo subito la nuova ospite Silvio, che nel secondo tempo della nostra puntata, Simona ci ha detto buonasera, me ne tu parlavi, e Simona, Simona ha già partecipato all'anno scorso, non c'è Silvio, l'anno scorso che pioveva, pioveva di rotto e noi eravamo lì chiusi in un altro posto, sempre nominabile, nel bunker, nel bunker, quel bunker maledetto, No, non è il bunker, eravamo qui dall'altra parte Ah, sì, stavamo qui, ah, non è il bunker Altre coordinate, vai sì Va bene, Simona L'hai visto molto interessato, abbiamo dire il simone Sì, l'ho vista che ascoltava con interesse, mentre Imma si fuma una pianta di oliva Non lasciala stare, non lasciala, ormai fuori dalla... Chiudi 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 Sì, allora, Simona, come Imma tu parteciperai alla processione quest'anno, partecipi già nella costruzione dei misteri, che penso, no? Sì, nella costruzione, Simona, il portarlo non qua No, il mistero, il microfono Sì, in qua E ti voglio chiedere, una, la soddisfazione di portare questo mistero, me la descrivi? Allora, io sono dall'altra parte, parto da questo presupposto, che io sono per il no Io non sono d'accordo Ah, ci vuole una voce con te? Io sono quattro anni che partecipo attivamente dalla progettazione, dalla costruzione dei capannoni Mi piace, anche se a volte mi trovo soltanto io come donna Mi piace stare con loro, mi piace la passione che ci mettono Le chiacchiere, le risate, tutto dall'inizio Sì, non serve un po' più fino A 360 gradi, però poi nel momento in cui mi viene chiesto Se sono d'accordo sul portarlo o meno, no Perché io sono legata alla tradizione a 360 gradi Io mi ricordo che ero piccolina, i miei nonni sono in terra murata Dopo pranzo, la domenica il nonno mi accompagnava a fare la passeggiata L'altra murata, vedere tutti i misteri, la costruzione Ho portato i fiori fino alla comunione Ho partecipato anche alle scuole medie con i miei amichetti a fare molti misteri che ricordo Poi con il mio fidanzato mi sono appassionata ancora di più Quindi arrivando al punto di progettare con lui il mistero ogni anno Costruire la base dalla semplice vite al taglio di un pezzo di legno Quindi fondamentalmente io veramente, come ha detto prima Imma, ho la passione di farlo Non è che vengo qua perché vengo portato, la sento Senti la necessità di partecipare ad attivare a questo Nonostante per esempio io studio a Napoli, vivo a Napoli Però io il fine settimana corro per venire qua, devo venire qua Però Però non sono d'accordo sul portato A parte la tradizione è una risposta molto Può sembrare banale o ovvia Allora è giusto, è banale, è ovvia Però diamoci una profondità Il discorso è che io penso che Io sono molto femminista E quando se ne è fatto su Tg Pro c'è un discorso di sessismo Mi ha dato molto fastidio Infatti io ho affrontato il dibattito E sono stata attiva nella discussione Però io penso che in questo caso Il sessismo non c'entri proprio nulla Nel senso che non è una questione di uomo, donna Facciamo i maschilisti Lo devono portare solo gli uomini Io penso che non sia questo Però io sento che la mattina e il venerdì Santo mi piace che devo andare al mio fidanzato Io devo mettere la veste, lo voglio vestire io Vedo le lacrime nei suoi occhi Che deve iniziare Tutta la trafila L'ansia, il tremore Quella tensione che si crea Io la vivo con lui Ma mi piace viverla dall'altro lato Non mi piace osservarla Mi piace viverla Proprio sentirla Ti faccio una domanda Soprima che tu avrai in futuro una bimba E lei volesse assolutamente portare il mistero Cosa le diresti? Di non portarlo? Guarda, sia io che il mio fidanzato Abbiamo lo stesso punto di vista Quindi siamo d'accordo sul no Entrambi Le trasmetterei tutta la passione possibile Noi parliamo H24 di mistero da una mattina alla sera Tutti i giorni, tutto l'anno Non è soltanto il periodo di venerdì Santo Gli spiegheremo tutto dall'inizio alla fine Però io spiegherei anche il mio punto di vista a mia figlia Nel momento in cui lei lo vorrà fare Non lo potrò impedire Ovviamente Perché comunque si parla di libertà di scelta e di opinione Però io spiegherò a mia figlia Il mio punto di vista Le farò capire perché i suoi genitori sono contrari eventualmente Le farò fare l'angioletto Le farò portare i fiori Tutto Quindi una distinzione di ruoli chiara Dopo dalla tradizione Sì perché penso che la parola Inserire le donne nella processione si parlerebbe più di progresso Io penso che il progresso dovrebbe essere attivato su altri discorsi Più seri Cioè no più seri Nel senso su altri ambiti Io in un ambito religioso del genere Porto avanti l'idea di tradizione con i miei nonni Che ha portato la candela per anni Che ha costruito i misteri Con mio padre che ha fatto i misteri La vedo così e la sento così Io voglio chiedere a Napoleone Si è pensato una partecipazione alternativa alla processione dei ragazzi Non nel portare i misteri Cioè secondo ci potrebbe essere una funzione meno invasiva Ma più attiva Perché poi fisicamente vuol dire sappiamo portare i misteri Si sta pensato a questo Lasciamo stare che voi avete aperto una strada E questa strada Sala chi è d'accordo o chi non è d'accordo Però è stata aperta Ora la domanda mia è Nell'azione del mistero Di lavorazione del mistero Come dice Nando C'è bisogno comunque di una forza fisica Di una fatica che va spesso al di là Di quella dei ragazzi Si è pensato una strada alternativa Per farli partecipare attivamente alla processione Noi abbiamo pensato tante cose Sì Abbiamo fatto molte riunioni con la congrega Figurati che una volta abbiamo pensato di far portare le statue alle ragazzi Solo le statue Che ormai Sono ferme Sono ferme E mi hanno detto Se portano le statue Portano anche il mistero E mi sembra anche normale Scusa Sì Però la statua che firma Sarebbe un elemento Da poter sfruttare Per farle entrare all'interno del sistema Io volevo buttarvi un'idea lì Perché secondo me potrebbe essere qualcosa di interessante Non so se voi per casa avete un sito Qualcosa sul web Perché Visto che c'è stata l'apertura alle tolle Perché non provare l'apertura Per esempio anche a persone Che vengono a Procida Da Ischia Oppure dalla terraferma A vedere la processione Proprio nel farle portare Quindi anche a stranieri A persone non Procidane Cioè magari proprio scrivere sul web Se accettano persone Già si può fare Guarda che noi abbiamo già un Ischitano Che fa il mistero A parte l'Ischitano Proprio di creare Cioè proprio scrivere Proprio sul web Che comunque è visibile Da qualunque parte del mondo Chiaramente Poi promisci il vestito Esatto Esatto Non ci sarebbe un problema Almeno per me Un'idea anche per il futuro Un'idea anche per il futuro Ma se non ci sono problemi Guarda anzi Sarebbe una cosa buona Se non mi sbaglio 3-4 anni fa Ma non ricordo bene Il Monte di Procida C'è un mistero Quindi già comunque c'è stato qualcosa Però lui fa un richiamo pubblicitale Se voi per esempio mettete sul sito Che magari sono richieste persone Per portare il mistero Anche dall'estero Per me sarebbe anche bello Ed emozionante Appunto È una buona idea Che uno straniero Nell'estate sarebbe una buona idea Nell'estate sarebbe una buona idea Alberto Bravo Che comunque hanno sempre stranieri Che comunque vedono Esatto Potrebbe essere una cosa molto carina Secondo me è una buona idea E potrebbe anche essere uno strumento Per veicolare persone Portare persone a Procida Cioè partire già dalla fine Del progetto di quest'anno Perché come dire Ci sono le statue da portare Siamo dalle statue Sarebbe una buona idea Ti forniamo il vestito C'è Michele che scarpita Scarpita Voglio dire una cosa Su questo tema Scarpiti Sono 2-3 anni Da noi viene un mistero nostro Un ragazzo di Napoli proprio Non è proprio di Procida Non ha amici a Procida Viene solo quel giorno Sì Il mio ultimo mistero Che era una scemenza Fatto con degli amici C'erano due persone Che erano Un mio amico carissimo E un suo amico Di Napoli Venuti appositamente E non sapevano Ma questa è una bellissima cosa E ti dirò di più Sono Ora non ci sono I ragazzi di Punto Cuore Prima c'era qualche ragazzo Io gli procuravo la veste E gli facevo portare E gli è piaciuto tantissimo Ampliare Diciamo l'orizzonte Anche all'ombrosità Secondo me potrebbe essere Anche perché quella sarebbe un'esperienza Un'esperienza Secondo me Forte Secondo me sarebbe No ecco Organizzarsi su questo Cioè avere Le vesti Abbiamo per esempio Un due mesi di prima 20 vestiti da fratelli Da poter utilizzare Per la professione Il problema Scrivete a Il problema Che non lo danno più Le vesti Sì sì Vabbè Perché sono molto gelosi Delle proprie Anche normale Come il vestito di grazia Sono perse parecchie Io per esempio La mia veste Ha girato 5-6 persone Io l'ho dato dappertutto Nando è come il vestito di grazia Noi siamo gelosi Delle nostre vestiti Bellissima Sirio direi una cosa Nel frattempo Io direi di dare un attimo Io ti metto in regia Perché Siamo a dare la parola Per il suo momento Il momento In cui parleremo Purtroppo Di una sconfitta Se ti puoi girare Anche verso Non ti preoccupare Del microfono Si sente lo stesso Praticamente Vai Sirio Vai con la Aspetta Aspettatevi Il gelato Per Alex Vai Alex Vai Gentili Dei spedatori Di Teleisca Buonasera Da Luigi Necco E benvenuti A un nuovo appuntamento Con il radio giornale Speciale Talcio Napoli Ma adesso C'è lo stesso La parola Sirio Papa Che mi introdurrà La canzone Benito Per questo appuntamento Musica Il nostro commento Sempo di Napoli Il Napoli Di Carlo Ancelotti Era chiamato Alla prova del nome Dopo la stupenda vittoria All'Olimpico di Roma Contro la Roma Di Claudio Ranieri Per 4-1 Gli azzurri invece Sono inciampati In uno scivolone Cramoroso E anche meritato A nostro avviso Sconfitti Meritatamente Allo Stato Castellani di Epoli Per 2-1 Contro l'Eppoli Di Aurelia Gazzoli Che aveva fame Di rivincita Dopo l'1-5 Del San Paolo Di un girone fa Con un Bettenz Mostruoso Gli azzurri Non sono stati Quasi mai pericolosi Se non con il gol Di Zerischi E il destro Di un ass Largo di poco Una partita Difficile Da commentare Sia per la prestazione Che per l'offorgimento Della gara Migliore in campo Piotr Zerischi Voto 6-1 Il più volenteroso Peggiore in campo Adam Unass Voto 4-1 Da prendere a schiaffi Per la sua partita orrenda Da Luigi Necco è tutto Lina lo studio Grande un applauso Dai Sempre benvenuto Preciso Un duale Piccato Ma scusa Fammi dire una cosa Alberto Però Però Invece è un ass Però Siamo rimasti Sospesi Di una cosa Una cosa importantissima Dobbiamo Svelare 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 Chi Chi C'è dietro Alla Questa svolta epocale 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 E direi che Chi meglio di Alex Può presentare Questo nostro amico Sul 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 Con questa cosa Che hai detto Io l'avessi fare Un buco Don Zalvatore Sacre Stato Buonasera Don Zalvatore Don Zalvatore Sacre Stato Buonasera a tutti voi Pace bene Don Zalvatore Oggi Non vi abbiamo accompagnato Con la solita base Come mai Come mai Perché Siamo Stiamo Ci tengo A che la base Parliamo di Vistare Non c'è la base Dai Il caro Cloaca Condina sempre Con le sue impendine Don Zalvatore Buonasera Finalmente L'abbiamo qui Perché abbiamo voglia Di sapere Come ci è riuscito Ma guardate Io sto bene qua Perché motosegra Perché segretta alternativa Mezzi del mestiere Ah bene Che vengono utilizzati Ma lei è un valegname No No Però questi mezzi Li utilizziamo Per qualche birichino Li utilizziamo per occultare Ecco io Ho voglia di sapere Ma non li occultiamo niente Tutta la luce del sole Notava tu Ditemi Come hai fatto a convincere Ima A fare la processione Di sale Ma e me ne amiche Siamo amici Da Imma Tabaccarlo La chiamavano Abitava a Casavatore Ma la ricordo Era bravissima Donna Donna Imma Donna Imma Tabaccarlo Donna Imma Io me la ricordo Era bravo Tabaccarlo perché Perché fumava 7-8 pacchette Di cigare E tu Tante che fumava S'ha aperto la tabaccheria Ma che cosa È nazionale senza filtro Mi sformiava Perché noi Così faceva Ovviamente Quindi come ci è riuscito A far entrare le donne Nella processione Del venerdistano Ma voi sapete Che sono amico Al cardinale Ah che non si può Possiamo dire il nome Oppure Cresciaziello Grandissimo Cresciaziello Abbiamo fatto le scuole I medali insieme Aspetta Si scoprono tante cose In quel di Ariola Sì Dove fanno delle Buonissime mozzarella Fanno delle messe Mozzarella Ariola Mozzarella Plutonio Però sono buoni E là sotto Ci ho occultato un po' di tempo Per l'antioccultamento Eh sì Cresciaziello aveva Delle fabbriche Di cosa Fabbriche Di gnu No Produceva cappelletti Per i bambini nani Diciamo Ah ok Famosi cappelletti Per i bambini nani Prodotti ad Airola Chi non li conosce Assolutamente Non li conosco La notizia è più importante Ma l'abbiamo ancora data Quale? E sarà portata in processione La figlia di Salvatore Ah sì Adolorata Adolorata Io mi devo dire Com'è andata Adolorata Mi ha chiamato la signora Trammata Baccar L'amica addolorata Era fatto proprio l'asilo insieme Ah ok Già fumava Già quello Quando era bambino Già fumava Assolutamente Si scambiavano le sigarette Sì Dei funcazoni clamorosi Vabbè comunque Detto questo Andava alla scuola All'asilo insieme E lei Gli parlava sempre Di questa processione Che si faceva Adolorata Che ha il fisico Che ha il fisico Di un gubbotto Diciamo È un avulino Esatto È la pietra Che stanno Sulle scogliere Praticamente Quella è il fisico Di mia figlia Quella a tre pezzi A tre A tre Diciamo che Se non daveste la testa Sarebbe veramente Uno scoglio Della scogliere Dopo ho detto questo Ha detto Ma papà Ma io voglio partecipare Ma scusate Ma questo Ma qual è il problema Ma questo gioia Questo fiore Della primavera Lo dobbiamo portare Innalzato E abbiamo deciso Di farla partecipare Quindi dal posto è l'estate Donna Imo Che ha detto Vabbè io la faccio fare Il mistero La faccio portare Un coppo mistero Ci vorrà comunque Una gru Che verrà trasportata Però ci devi partecipare Come donna E ha chiamato A crescenziello E crescenziello Amico mio Ha risolto il problema Abbiamo capito Cosa c'era dietro Questo Grazie a Donna Imo Grazie a Donna Imo Che Ha risolto Ho chiamato A crescenziello Sulla linea privata Diciamo come Quello di Batman Rosso Accendo Io ci parlo Ma a me fa sempre piacere Parlare con Don Salvatore Perché Ci spiega sempre Il perché E la mia umiltà Dispute i faccio Lo sapete E questo Mi fa molto piacere Donna Imo Dite E' importante Di crescenziello Questo Lo dite voi Io non posso Nimicarmi Crescenziello Crescenziello è una amica E' bocca mine Vabbè Vabbè Salutiamo Don Salvatore Salutiamo Don Salvatore I nostri ospiti Di cosa tratterà il loro mistero Pensi che almeno il titolo Il tema Lo possiamo dire Il tema Il titolo Il titolo Il vostro Allora Il nostro tema Tra virgola sono tre Tre Un ettrino Perché col progetto della scuola Che sarebbe il volo Che il volo sarebbe anche come libertà Crescita e conoscenza Ma quindi la scuola parteciperà Con un tema Con un vostro mistero Fa parte del vostro mistero Il mistero nostro sono tre basi Tre basi Chi la vuoi fare la scuola? Tutti insieme ci siamo seduti al tavolino E abbiamo messo un po' di tempo Perché è un po' particolare Visto il tema Quindi sarà una base Che sarà del sabato Il tema della scuola del volo Però inteso come crescita Libertà e conoscenza Quindi spiccare il volo Ok Quindi si dovevamo pensare un po' Molto complicato E quindi noi abbiamo pensato Di fare queste tre basi Che sono tre scene Della vita di Cristo Che uno sarebbe Cristo il Signore del sabato Il figlio del prodigo Gesù a casa di Simone Sarebbe le tre cose Che Gesù ha fatto Che non si doveva fare In quei tempi Quindi Si Per esempio la scena Che abbiamo noi qua Del mistero nostro Sarebbe L'adultera Che lavava i piedi Con le lacrime I suoi capelli I piedi a Cristo E tutti dicevano Quindi Gesù come Personaggio che rompe E rompe schemi Bravissimo Sono libero di fare Questo mistero Sarà pieno di libri Perché i libri Portano alla libertà di pensiero Alla crescita Alla conoscenza Quindi sarà pieno di libri Fogli E queste scene Messe lì Un mosaico Poi ci sarà La scena del figlio del prodigo Che è tornato a casa Anche se non poteva Lui è tornato Il padre l'ha accolto Anche questa è libertà E crescita E evoluzione Capito? E quindi abbiamo pensato Così il mistero È molto lungo ragazzi Da esprimare Vabbè ma Hai dato di vedere Michele tu? Vito Barile Voi voglio sapere Anche Vito Barile Cosa ha pensato Noi del mistero Del panettiere Del panettiere Ragazzi Samoso ragazzi Qua dovete sapere Che approcci poi Come tutti I piccoli paesi Poi ci sono anche I soprannomi Allora questo Un mistero del panettiere Un mistero del barone Ci sono i Come si chiama? I capisani Fulcrivi I capirai Antonio Guido I lassi I lassi I lassi Allora niente Noi un mistero classico L'innalzamento della cruce Quando proprio sul carvario Mettono Gesù lo alzano dalla cruce Quindi l'innalzamento E stiamo Raffigurando un quadro di Rubens Che si chiama proprio L'innalzamento della cruce Quindi All'espressione classica Sono 10-12 stati Quante persone ci sono Nei vostri misteri? Noi abbiamo tre basi In totale Una cinquantina di quest'ultima Lei o voi? Quando avete incominciato? Noi abbiamo iniziato A gennaio No 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 veramente Avevamo un portone Avevamo fretta di iniziare No Abbiamo distanti Perché l'estate erano tante Quindi Anche per sopperire al peso Avevamo fatti tanti stati L'estate ancora le fate Con la carta pesto Non comprate i manichini Quelli già fatti Avevamo comprati i manichini E avevamo fatti i stampi Giusto per Alleggerirci un po' il peso Il lavoro agli ultimei Esatto Voi Raffigurando quando avremmeno Cominciate? Anche noi siamo Una cinquantina di noi E abbiamo cominciato Un paio di mesetti fa Più o meno E È difficile Quindi Avendo tre basi Con i ragazzi Della scuola media Ci è voluto un po' di tempo E abbiamo cominciato a Michele Per la gennaia Prima di Natale No No Un attimo Veramente noi Già sapere lo sanno Progettiamo per la Si vuole invece Quello di Barile Di Vito Di Vito Il stare di Vito Quest'anno È un po' Una sorta di provocazione Perché c'è una parte Che rappresenta Comunque La redenzione di Cristo Infatti Riprendo le parole Tue di prima Che hai detto Che Don Marco Che ha detto Di non mettere I titoli lunghi Ah beh Però non mettiamo Mezzo a Don Marco No No Vediamo che Don Marco Quello che ha detto Qui ci sono detti Per chi ci vedrà in tv E invece Chiede Don Marco Ma Don Marco Attualmente colui Che è responsabile Della congresso Che è il tuo cugino Non fosse altro Perché è il mio cugino Il padre è il spirituale Della congresso È il mio cugino Quindi È tutto È tutto È tutto Maia Anche Ma è il mio cugino Mai signora Maria Vabbè Noi il titolo Non lo diciamo Ma no Comunque Dice che Chi crede in me Vivrà in eterno Quindi c'è una parte Che rappresenta La redenzione Sì E Diciamo La Chi vive in Cristo Appunto E poi c'è una parte Che invece dice Chi invece non crede in me Verrà imprigionato Come il falso profeta E questa parte del falso profeta È un po' una provocazione Perché poi si vedrà rappresentato Molto attualizzata diciamo Leggermente Comunque diciamo Rappresenta un po' Colui che non fa il suo dovere Sia all'interno della chiesa Sia come nella vita Come cristiano E quindi verrà rappresentato Anche voi siete Una cimadina di persone circa No no Quest'anno Un mistero di 5 metri Siamo pochini a lavorarci Io volevo dire A chiedere prima A loro due Si è parlato molto In questi anni Del fatto che ci siano Sempre meno misteri Quindi Una volta ce ne erano 80 Una volta adesso Ce ne sono molti di meno Però non ritenete Che sia anche perché Si fanno misteri molto grossi Con molte persone Per il mistero Ma il discorso Non è questo Perché se io faccio Un mistero anche di 8 basi Tu devi vedere Che comunque sono 8 basi Lascia stare Che è un martinto Però comunque alla fine Quando si dà il numero Quello mistero È un mistero Però tu devi contare Anche che Quello che dice Alberto Anche io sei 50 persone Che siamo Assolutamente No no Sono anche i ragazzini Che al momento Stanno imparando Assolutamente Però non è che Magari la punturia Anche come provocazione Si fanno misteri Con tante persone Perché poi Non c'è materialmente Chi come te Come Michele Come Vito Facciano da capitano Per altre persone Da fattiscire E questo è il discorso Infatti Io dico sempre Ho detto anche a mia moglie Poco tempo fa Ho detto Se noi finiamo Di fare il mistero Noi parlo come ragazzi Che ancora fanno Il mistero dei grandi I costruttori Finisce la processione Perché gli altri Non sanno Cosa fare Invece Imparando con noi Guarda che Molte Già molti ragazzi Si sono distaccati Da noi Come Diciamo che Facevamo Mister Enzio Si sono distaccati E hanno fatto Il mistero A parte Quindi non è Come dici tu Capito Come quelli Vedono Imparano qualcosa Cioè Volevo dire un domani Di questi 50 Che siete adesso Due imparano Bene Il tuo lavoro Si fanno il loro gruppetto Si fanno tre misteri Da 15 persone Si fanno il loro gruppetto Sicuramente Guarda Perché noi siamo Per esempio Secondo che siamo In una fase di transizione Deve crescere L'età che Dice Ok Ho imparato qualcosa Faccio il mistero Perché così sta succedendo Michele No io Proprio una provocazione Vai No Noi siamo Noi sono 16 anni Che facciamo il mistero insieme Siamo sempre 25-30 persone Sempre le stesse A lavorare 10-15 Ci sono sempre Di solito 10-12 bambini Che le madri Dicono Possono fare il mistero E in questi 10-12 bambini Non c'è un papà Due papà Che si mettono E fanno il mistero ai bambini Perciò siamo 50 persone E anche questo è il problema Perché Magari i papà Non lo sanno fare Non è questione di farlo Non è questione di farlo Perché poi se vengono da noi O da loro Una mano c'è sempre Ok Allora Parlando di generazione Di cambio di generazione Non possiamo fare una puntata Del venerdì stando Senza poi ricordare Le generazioni passate Eh Sì Parliamo di Che adesso ancora Alcuni ancora lo fanno E altri purtroppo Non ci sono più Come Ciro Manzue 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 Antonio Guida Che partecipa ancora Che poi Sono proprio loro Io quando ero piccolo Ricordo loro Erano i due I riferimenti I riferimenti Che poi Poi sono nati Il panettiere Eccetera Raffaele Barone Come già abbiamo detto E poi non so Se mi scordo qualcuno Di importante No ricordiamo Ma anche I ragazzi C'era anche Nico Ramito Nico Ramito È stato con Raffaele E' stato con Raffaele Però più meno da lì Ha partecipato Con Raffaele Giuseppe lo scimparoso Giuseppe 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 E' già più giovane Però Giuseppe Ha mandato Antonio Anzalone Anzalone Di Bartolomeo Giuseppe ha mandato te Giuseppe ha mandato te E ne aveva scoperto Anche Nicola Guida Se non so se lo ricordate Ragazzi Attualmente Divino Australe Di Bartolomeo Che vive a Milano Allora io vorrei Siamo in chiusura Volevo chiedere Volevo fare una domanda Che nessuno Penso vi abbia mai fatto Eccolo Giusto in chiusura Dopo due settimane Venerdì C'è la processione E il giorno dopo Come state? Il giorno dopo Qual è la Qual è la Siamo morti Te lo direi la verità Noi morti Ubriachi Perché stiamo facendo La mangiare del mister La verità La sensazione qual è? La sensazione? Quando finisci la processione Allora Vito Mette il countdown Noi Facciamo il progetto Per il prossimo anno Subito C'è voglia di inizia Ragazzi Io vi dico La verità Appena finisco Mette di santo Mi manca Non so cosa fare Quello volevo Serdito Ragazzi Infatti Noi cerchiamo sempre Di mettere qualcosa Come si dice Qualcosa Mese Per fare qualcosa Vogliamo anche Vogliamo anche Ricordare una cosa Importante Che comunque Questi misteri Sono comunque Visibili Qui sopra Sì quest'anno Se non mi sbaglio Sono visibili Fina a me da maggio Nelle tende Nella cittadella Dei misteri E' arrivata La cittadella Ma diciamo Che la cittadella Non è individuare Un porto qua fuori Volevo chiederti Il portone Il spazio Il carcere Michele Fabio Lei e Michele Io le chiederò Anche questo riguardo Quante Numericamente Quante persone Quanti turisti Vengono a visitare I misteri Che avete Nei cavannoni Più o meno Ragazzi Noi sono Adesso Attualmente Dopo Dopo Che li Ho portato La posizione No Tantissima Poi sulla Terra Guardate Ogni giorno Solo i taxi Se vengono pieni Tutti i giorni Tutti i giorni Non dico scemità 200 persone Tutti i giorni Quindi avete Un grande riscontro Anche dopo Ma la gente Entra anche dentro Anche se hai la porta Stai chiusa Entra per vedere Cosa stiamo facendo Cosa costruire Come facciamo E guarda Che anche Anzi Noi spieghiamo anche Cosa facciamo Ma riguardo Voglio buttare Una domanda Molto provocatore A riguardo Ma questo è molto Provocatore A riguardo La processione Del benedissanto Non è che magari Si potrebbe fare Prendendo Anche dagli amici Schitane Che sono molto Più avanti In questo Secondo me Di chiedere Anche l'aiuto Da parte Degli operatori Turistici Per sponsorizzare Sia il prima E il dopo E soprattutto Il dopo La processione Perché comunque Voi portate persone E fare tanti soldi A loro Questo secondo me Non ci dobbiamo vedere Noi Non dobbiamo guardare Noi A vergatori Tassisti E quant'altra cosa E gli fate notare Comunque che voi Grazie Mantenendo in piedi Questo bellissimo giocattolo Chiamiamolo così Poi fatesi che vengano Tantissime persone A Procida Allora perché Non chiedere un contributo Anche da parte loro Perché alla fine Poi loro Detto in modo Ci mangiano Tra la virgoletta E quindi Anche sulle vostre spalle E sui vostri sacrifici Quindi perché Non coordinarvi Cominciare a coordinarvi Anche con loro La cosa Guarda Tu hai ragione Hai ragione Però Non è semplice Come la dici tu Assolutamente È molto complicata È molto Intrecciata la cosa Quindi Però è una cosa Sulla quale lavorare Si potrebbe fare Ma noi abbiamo Quest'altro Molte Anche Di cadere ai negozi Devi dare qualcosa Perché i negozi Pure Cioè ogni anno A benedistante Guadagnano Ma un minimo Non è che devi dare 10.000 euro In negozi Per dire È anche un minimo Ma pure ai negozi Ristoratori Uno sconto Bravissimo Uno sconto A noi Bravi Voglio dire Anche una scemità Io scendo alla marina Finisco la processione A bottiglia d'acqua Bravissimo A scendere Dici Qua stanno Tre casse d'acqua Bevete Abbiamo visto Su questo Bisognerebbe lavorare Un po' più in sinergia Guarda che noi Quest'anno Le due associazioni L'isola dei misteri Ragazzi Dei misteri Sono molto Compatte Sono molto compatte Per molti motivi Che non sto qui a spiegare Ci vorrei essere Quattro puntate No 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 Visto che abbiamo In questo momento Terminato il tempo A nostra disposizione Fatemi salutare anche Chi ci ha dato Lo vedo anche un po' Un po' nel voto Come vai Un altro big Il problema Che ci state Togliendo un paio Dove di lavoro Visto che abbiamo Il tempo contato Contato Uno due Ecco qua Sul post misterio Dico soltanto Che quando vengono distrutti Il piango Per giorni Non scherzo Perché finché Lo vedo ancora là Non realizzo totalmente Quando si inizia A togliere Il primo pezzo di legno A togliere La prima vite Io Sto veramente Molto male Quindi soltanto A pensarci Mi fermo E con questo Un attimo solo Volevo dire una cosa Si Posso avere il microfono Eh si Però Mettiti bene Mettiti Allora E' un'ultima notizia Che è accaduta In questi giorni Però sono stato avvisato adesso Perché sono stato Siamo ritornati Agli anni 90 Quando distruggevano i misteri E questa è la cosa Più scandalosa Che possa accadere Allora Noi abbiamo Come associazione Due tende Dall'altra parte Nella direzione E mi ha avvertito Una mamma Che hanno distrutto Un mistero di bambini In questi giorni Ovviamente Già abbiamo capito Chi è stato Però Questo cosa vuol dire Che Quando noi Facciamo le battaglie No Per dire Alcuni luoghi Vanno sorvegliati E in questi anni Sono stati sorvegliati Dalla nostra associazione Nulla è mai accaduto Da quest'anno Visto che Ci sono anche altre associazioni Che però Se ne fregano di tutto Ma pensano solo a fare Il mistero loro Accadono queste cose Perché tra di loro Ci sono anche dei soggetti Che non sono controllati Allora dico Ragazzi Non è questo il mistero Non è questo il venerdì santo Andate da altre parti Grazie Logicamente Diamo possibilità All'artitebrica A chiunque Si sente Tra piccolette Presi in causa Di poter Riplicare E di poter venire Nella prossima Ci saranno Trasmissioni Anche se non Con gli S Weekend Con Tele Ischia Anche Proce da radio Dobbiamo chiudere Perché Imma Sta chiamando il suo Allora Donna Imma Donna Imma Ha detto Sto Saluto Donna Imma Mezzo Ciao Imma Michele Napoleone Simona Alberto Alcidiano Arrivederci a tutti Arrivederci a tutti I nostri spettatori Che ci hanno seguito Da casa Se te le ischia Sì Non interromperai E allora Cari amici Vi diamo appuntamento A venerdì santo Veniteci a trovare Qui a Procida Chi ci segue da fuori Venite a Partecipare anche voi A questa cosa Che per noi Procidani È una cosa Bella e importante E non deve diventare altro Come diceva Giuseppe Cerchiamo di Mantenere i toni Bassi E cerchiamo di Non rovinare Questa bella Atmosfera I sentimenti Che i nostri ragazzi Qui perché oltre a parlare Di misteri Ci hanno mostrato I loro sentimenti Quindi ragazzi Appuntamento Perché è domenica La nostra domenica Per questo weekend Non lo so Se ci saranno altre puntate Però Buona serata a tutti Sigla Sigla Arrivederci a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.